Come dicevo, a me piace il ferrociclo perché potrebbe essere simpatico, anzi è quello che c'erano i dati che vi stavo dicendo prima. Il ferrociclo potrebbe essere simpatico secondo me è anche un modo davvero originale per riscobbire territori, anche perché poi sappiamo che le linee ferroviarie non hanno mai tendenze eccessive, quindi diventa anche abbastanza semplice. La famiglia sta tutta assieme e quindi diventa sicuramente un modo, anche questo assieme al treno turistico, per incrementare l'indotto. E qui sono state fatte delle cifre prima, qualcuno diceva che ogni euro investe in una ferrovia turistica storica.